L'Europa non è soltanto il luogo dove i ragazzi vivono e vivranno in futuro, ma è un pezzo della loro identità, è qualcosa che sta dentro di loro e non soltanto fuori. C'è un'identità europea da rafforzare, c'è una cittadinanza europea che i ragazzi hanno e magari non lo sanno e quindi bisogna spiegare a questi ragazzi che loro sono anche europei, hanno anche dei diritti, delle opportunità, dei valori, delle responsabilità che fanno parte di questo essere membri di una famiglia europea. Questa è una sfida nuova, è una sfida difficile, è una sfida nella quale senza le scuole, senza gli insegnanti, senza i dirigenti scolastici e senza gli Europe Direct non potremmo mai raggiungere l'obiettivo finale. Europe Direct di Torino è da tanti anni uno dei pilastri della rete italiana che aiuta le rappresentanze di Roma e di Milano a comunicare l'Europa sul territorio. In tutti questi anni il centro di Torino ha organizzato tantissimi eventi, iniziative, campagne di comunicazione sia con le scuole, sia con i giornali, sia con la società civile e ovviamente anche con gli enti locali, non soltanto a Torino e nella città metropolitana ma anche in tanti comuni della provincia. Quindi l'approccio è quello giusto, andare a livello locale, il più locale possibile, lavorare con i moltiplicatori, lavorare con i giovani e lavorare con l'ideale che ha spinto fin qui gli operatori del centro e che speriamo continui a lavorare in questo modo.